Seconda parte di fatti e commenti c'è un nuovo ospite della sede di Fano si tratta di Gabriele Cameruccio assessore urbanistiche frazioni del comune di Senigallia buonasera buonasera torniamo sui siti in apertura di seconda parte subito cronachepicene.it con una notizia ancora televisiva per ripercorrere il filone aperto dal sindaco poco fa il sindaco Livetti Ascoli torna sotto i riflettori di Linea Verde su Rai 1 città di nuovo protagonista sul piccolo schermo numerosi gli scorci di Ascoli del Piceno nella puntata che va in onda domenica 25 febbraio presenti anche alcuni figuranti della Quintana vedete questa bellissima foto della piazza del popolo di Ascoli il Piceno appunto protagonista con tutte le sue bellezze anche piazza Ringo l'eremo di San Marco eccetera questo da cronachepicene.it si parla anche di Confartigianato che lancia una nuova iniziativa un progetto di accoglienza turistica e poi cambiamo provincia la provincia di fermo.com a pedaso si racconta dell'operazione dei carabinieri nei giorni scorsi appunto è stata conclusa un'attività di accertamento che ha portato al deferimento in stato di libertà presso l'autorità giudiziaria competente di un individuo di 46 anni originario di Foggia già noto alle forze dell'ordine un controllo effettuato in via Leopardi ha permesso poi di perquisire arrivare alla perquisizione dell'uomo e su questa persona è stato rinvenuto un coltello a serramanico di dimensioni di 21 centimetri che poi è stato sequestrato tanta cronaca nel sito la provincia di fermo.com con lo schermidore paralimpico Michele Massa che incontra gli studenti dell'IC Petritoli quindi anche una notizia di sport ma anche l'economia con la moda, gli artigiani sono preoccupati, non c'è ripartenza, servono aiuti mirati, i bandi regionali non bastano c'è anche il riconoscimento di patrimonio UNESCO per l'Abbazia di San Vittore che è in corsa proprio per questo importante premio a questo punto io mi sposto direttamente sull'assessore che ha diciamo dei temi portanti questa sera da sottolineare e da porre insomma l'attenzione del territorio l'impegno appunto è su due filoni principali il lungomare e la revisione del piano regolatore cercando di intravedere la Senegallia che verrà Esattamente, come amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Olivetti abbiamo inserito tra le nostre priorità appunto un importante processo di riqualificazione ammodernamento del lungomare di Senegallia che si estende per circa 14 chilometri e questo processo di ammodernamento è partito con un concorso di idee che abbiamo indetto la scorsa estate e che sta giungendo a conclusione Il famoso Velvet Waterfront Esattamente, Velvet Waterfront tradotto lungomare di velluto e quindi sono pervenute in questo senso quattro idee proposte progettuali che appunto è per cui è in corso di definizione la graduatoria definitiva da parte della commissione che ha valutato i lavori pervenuti e i quali lavori verranno anche una volta che ci sarà definitivamente una graduatoria sono pervenute quattro idee proposte ci sarà una graduatoria definitiva con un primo, un secondo, un terzo e un quarto presenteremo al pubblico quindi ai cittadini, quindi agli operatori economici ai rappresentanti di categoria quelle che sono appunto le proposte pervenute perché vogliamo arrivare ad un importante progetto di riqualificazione del nostro lungomare che non è soltanto un fatto estetico di ammodernamento ma è anche proprio una nuova modalità di ridisegnare e permettere appunto ridisegnare il lungomare da un lato e permettere agli operatori economici e turistici di poter esprimere al meglio le proprie potenzialità proprio perché il lungomare di Senigallia di fatto è fermo nella sua conformazione agli anni 60 e 70 per cui su questo gli vogliamo dare una spinta e renderlo attuale a questi anni insomma La realizzazione di questi interventi partirà nel tratto centrale che va dal molo alla rotonda ci sarà una pedonalizzazione e poi ci si estenderà verso Marzocca e verso Cesano Chiaramente il lungomare come dicevo è lungo 14 chilometri si partirà con il tratto centrale che è il biglietto da visita come dire principale che va dal molo alla rotonda per il quale è previsto la pedonalizzazione per poi estendersi verso Marzocca e verso Cesano ma tutto il lungomare ha grandi potenzialità e grandi caratteristiche e grandi ricchezze dal lungomare Mameli al lungomare appunto Marconi al lungomare Alighieri al lungomare Da Vinci al lungomare Italia per cui vogliamo appunto intervenire già lo stiamo facendo per alcuni aspetti ma con il progetto Velvet Waterfront che abbiamo denominato così vogliamo appunto ridisegnare completamente in maniera importante quella che è il biglietto da visita e che è il perno attorno a cui ruota come dire l'economia turistica del territorio di Senigallia che è un po' la regina del turismo della regione Marche Sì, ogni tratto di questo lungomare ha proprie caratteristiche ha una propria personalità Il lungomare di Senigallia ha grandi potenzialità ha delle caratteristiche particolari ma anche quindi caratteristiche che ne fanno una ricchezza e permettono di avere delle potenzialità che permettono quindi di avere un'attrattiva in più e diversificare anche tra virgolette quella che può essere l'offerta dell'economia turistica del lungomare potenzialità e ricchezze che ha il tratto centrale così come lo hanno con proprie caratteristiche il tratto verso sud o verso nord nel lungomare Mameli insomma per cui questo il lungomare è sicuramente una priorità su cui avevamo puntato e su cui ci siamo impegnati pochi mesi dopo che siamo stati eletti partecipando ad un bando Pinqua per cui abbiamo partecipato abbiamo ottenuto un importante finanziamento con questo bando Pinqua di 7 milioni e mezzo assieme al comune di Falconara e con questo bando interveremo appunto nel tratto del lungomare da Mola alla Rotonda sul palazzo Gerardi nella città e anche sul palazzo di Via Bonopera dove ci sono importanti serie associative nel palazzo Ginnasio Più in piazza Garibaldi e in altri punti della nostra città per cui già in quell'occasione abbiamo avviato quel progetto di riqualificazione e rilancio del lungomare che ora stiamo mettendo a terra con questo concorso di idee che sta volgendo al termine che a breve presenteremo come ho già detto al pubblico insomma con una iniziativa presumibilmente alla Rotonda in cui faremo degli eventi pubblici per presentarlo ai cittadini e agli operatori economici anche per avere contributi e idee per come migliorare partendo da queste idee e proposte progettuali che sono pervenute quindi per passare poi alla progettualità successiva che dovrà essere poi messa a terra con gli interventi pratici nel territorio e chiaramente andando ad intervenire per stralci funzionali nel lungomare. Vi occupate anche di digitalizzazione delle pratiche dell'edilizia privata di sicurezza ambientale da sviluppare appunto sulle frazioni di Senigallia di espansione urbanistica tanti progetti che vengono portati avanti anche sul lungo periodo con la revisione del piano regolatore generale alla luce della nuova legge regionale sull'urbanistica che è entrata in vigore il primo gennaio 2024. Sicuramente andando per ordine parlando di digitalizzazione e dematerializzazione delle pratiche la nostra amministrazione ha portato a completamento per quanto riguarda il settore dell'edilizia privata la dematerializzazione nel senso che sul portale ci sono i moduli per cui la modulistica per cui i tecnici possono presentare le istanze e seguire anche da portale a che punto è l'iter della pratica edilizia questo permette da un lato di risparmiare tempo da un lato di risparmiare dal punto di vista delle stampe cartacee quindi da un lato avremo anche una salvaguardia maggiore dell'ambiente tra virgolette da questo punto di vista e questo è un impegno che l'amministrazione ha preso e che ha portato avanti e che vuole proseguire anche per quanto riguarda l'aggiornamento della cartografia comunale che come dire va aggiornata la vogliamo aggiornare dopo circa vent'anni e per cui avremo un nuovo sistema informativo territoriale che poi sarà molto utile per la gestione della protezione civile del piano protezione civile e che dovrebbe essere pronto entro l'estate del 2024 per quanto riguarda invece il piano regolatore generale che in base alla nuova legge regionale in vigore dal primo gennaio si chiamerà piano urbanistico generale lì appunto vogliamo mettere in campo già gli uffici stanno lavorando stanno ponendo le basi per avviare una revisione complessiva ed organica di quella che è la pianificazione del nostro territorio con uno sguardo e una visione complessiva di città e frazioni appunto città e frazioni in un tutto tono perché questa ottica secondo noi è fondamentale ed è la base di un progetto di revisione non solo urbanistico ma anche per quanto riguarda anche le altre attività che vengono poste in essere dall'amministrazione tenendo conto da quello che è successo chiaramente purtroppo nel settembre 2022 per cui ci sarà una pianificazione che terrà conto di un obiettivo principale che sarà quello appunto della messa in sicurezza del territorio di tutto il territorio in particolare di quelle che sono le aree che sono state maggiormente colpite dagli eventi alluvionali è in fase avanzata la revisione del piano particolareggiato del parco della Cesanella a Senigallia abbiamo appunto il piano particolareggiato del parco della Cesanella che è un'area su cui come dire si sta lavorando e su cui si è avviato un percorso progettuale che però è partito circa 20 anni fa e che chiaramente non avendo avuto ancora compimento con la nostra amministrazione adesso cerchiamo da un lato dal punto di vista della pianificazione di renderlo come dire al passo con i tempi e dall'altro di adeguarlo a quelle che sono le previsioni del piano regolatore attualmente vigente sul territorio di Senigallia che è stato approvato a fine 2021 anche perché nel corso degli anni chiaramente sono cambiate da un lato le esigenze e quindi ci sono create anche altre opportunità quale ad esempio un progetto sul quale l'amministrazione ha compartecipato ad altre realtà associative in particolare penso anche alla Caritas il progetto appunto il parco che vogliamo nel parco della Cesanella che si inserirà nella nuova progettualità urbanistica del piano particolarizzato della Cesanella che sarà sicuramente una realtà una volta completata molto importante nel nostro territorio per una superficie lo voglio ricordare di circa 20 ettari e poi si attende anche la consegna degli appartamenti nell'edificio Erap di Marzocca di San Silvestro a Cesano forse ci vorrà un po' di più esattamente il territorio di Senigallia da parte di Erap non direttamente dal comune ma da parte di Erap è in costruzione da qualche anno tre realtà diciamo così di appartamenti da destinare a edilizia residenziale pubblica per cui i primi mesi di quest'anno quindi a breve dovremo avere la consegna da parte di Erap degli appartamenti in ultimazione a Marzocca che sono 16 8 appartamenti poi a San Silvestro e successivamente ci vorrà un po' più di tempo a quello che ci ha riferito appunto l'Erap negli incontri e nelle interlocuzioni che abbiamo avuto per quanto riguarda i 44 appartamenti che sono in fase di costruzione a Cesano di Senigallia appunto Ci sono novità normative riguardo i cimiteri della città? Anche l'argomento cimiteri della città da parte di questa amministrazione è stato affrontato in maniera permetto di dire abbastanza completa ed organica nel senso che da un lato si è rimesso a mano a quello che è l'appalto e la gestione dei servizi cimiteriali in senso generale e già lo si sta vedendo con un'immagine di cimiteri che sta migliorando e migliorata per quanto riguarda la cura la manutenzione anche per quanto riguarda gli interventi di sistemazione chiaramente però Senigallia ha tre cimiteri il cimitero maggiore è quello di Le Grazie cimitero di Montignano e cimitero di Roncitelli chiaramente ci vuole del tempo per completare in tutti e tre i cimiteri quella che è come dire un'azione di tra virgolette di miglioramento e di rimessa in sesto tra virgolette completa a livello appunto di decoro complessivo delle strutture cimiteriali da un lato per quanto riguarda questo aspetto quindi parlo la cura del verde sistemazione delle strade interne e quant'altro ma anche l'altra novità per quanto riguarda i cimiteri che questa amministrazione ha dato in carico proprio in queste settimane deve essere stato affinato l'incarico per quanto riguarda la redazione di un piano regolatori cimiteriale per quanto riguarda i tre cimiteri che dovrà tenere conto chiaramente di alcuni indirizzi che ha dato l'amministrazione e questo lavoro dovrà essere completato nell'arco di circa un anno e a Senigallia per quanto riguarda appunto i cimiteri da quest'anno è possibile la vendita dei loculi anche ai vivi praticamente per cui in questo contesto anche questo purtroppo è un argomento è una questione che è sensibile rispetto ai cittadini e molti cittadini hanno già contattato gli uffici perché erano interessati a questa situazione insomma questa opportunità che l'amministrazione ha voluto concedere per quanto riguarda l'ambito cimiteriale Lei è assessore anche alle frazioni le frazioni sono una parte fondamentale del territorio comunale ci sono delle risorse in bilancio per la sistemazione di strade e marciapiedi e anche per strutture scolastiche palestre impianti sportivi sicuramente urbanistiche frazioni ha detto molto bene per noi per questa amministrazione le frazioni sono una parte fondamentale del territorio in generale ovunque ma a Senigallia in particolare le frazioni rappresentano la metà della popolazione del comune quindi sono fondamentali vanno considerate parte integrante di tutto il territorio comunale città e frazioni in questo contesto noi siamo convinti come amministrazione che il futuro e la prospettiva delle frazioni dipenda molto e debba avere come base il mantenimento dei servizi per quanto possibile nelle frazioni e quindi il mantenimento anche delle strutture scolastiche e anche quindi per quanto possibile delle strutture sportive in questo contesto si dà una prospettiva di futuro alle frazioni su cui l'amministrazione sta puntando e continuerà ad impegnarsi in maniera importante e concreta nel proseguo del mandato amministrativo che ancora è in piena che adesso è in piena attività insomma sì so che si lavora sul palascherma Marzocca al centro sportivo a Cesanella al campo da calcio alle Saline il campo da calcio di Marzocca campi da tennis molti interventi distribuiti sul territorio molti interventi di strutture scolastiche in pianti sportivi in generale un po' grazie al PNR sicuramente fondamentale ma anche grazie a fondi o entrate comunali anche perché va ricordato che questa amministrazione ha svolto un'importante azione di recupero per quanto riguarda anche le entrate comunali per quanto riguarda la parte economico finanziaria e questo permette appunto di utilizzare risorse da mettere in campo per da un lato per erogare servizi e da un lato poi anche da utilizzare in maniera diversa insomma quindi i fondi comunali la disponibilità del comune a sostenere quindi anche la possibilità di prendere mutui è importante per poter poi realizzare interventi sul territorio e quindi nello specifico anche nelle frazioni riparlando appunto di scuole impianti sportivi come lei ha detto strade marciapiedi sicuramente su un territorio molto vasto di circa 115 km quadrati quale è quello di Senigallia insomma è fondamentale andare in mezzo alla gente ascoltare i cittadini confrontarsi con loro e so che l'amministrazione ha ripreso anche gli incontri pubblici dopo l'alluvione questa amministrazione la stella cometa di questa amministrazione è appunto lo stare in mezzo alla gente ascoltare i cittadini quotidianamente ma anche attraverso gli incontri pubblici che erano stati sospesi purtroppo per quanto riguarda a seguito degli eventi alluvionari ma che abbiamo ripreso e che la giunta con il sindaco proseguirà rifaremo sul territorio li programmeremo in tutto il territorio perché stare in mezzo alla gente ascoltare i cittadini suggerimenti consigli o anche critiche per migliorare quindi ascoltare le esigenze e le problematiche servono per cercare di capire quello che è stato fatto dove c'è da migliorare dove c'è da fare quindi in questo contesto l'ascolto rimane fondamentale e per questo noi siamo come dire a disposizione dei cittadini e cerchiamo di fare come amministrazione il meglio possibile ma soprattutto andando dietro a quello che è il nostro quello che era il nostro programma partendo appunto da quella che è la fase di ascolto dei cittadini ma anche delle categorie economiche degli operatori economici e anche delle categorie professionali per esempio parlo degli architetti gli ingegneri i geometri perché proprio anche da questi incontri che si sono svolti nel corso di questi tre anni oramai e qualche mese di governo che ci hanno permesso di approfondire e sviscerare alcune problematiche o criticità sulle quali in alcuni casi ci si è già messo mano su altre situazioni ci metteremo mano o sulle quali interveremo per esempio faccio l'esempio anche del piano particolarizzato del centro storico ad esempio che ha bisogno di alcuni aggiustamenti dopo 15 anni e di ammodernamento anche quello insomma grazie prima dei saluti guardiamo ancora qualche sito insieme andiamo su QDM notizie per parlare della zona di Iesi si riparla del caso Andrea Rabciuk Simone Gresti l'ex fidanzato dice non sarebbe mai andata da sola in quel casolare l'ex fidanzato appunto unico indagato continua a ribadire la sua innocenza al telefono di chi l'ha visto e si domanda ma la scritta rinvenuta è la sua e appunto scendiamo nei dettagli a Castelplanio sarà la perizia calligrafica a dare forse una risposta se quelle scritte trovate sulla trave repertata dai SIS la sera il 20 gennaio scorso del ritrovamento dei resti sono di Andrea Rabciuk se lui non me lo avesse tolto avrei chiamato mamma quindi continueremo a seguire questo caso del pennarello qui si parla proprio si fa riferimento al pennarello con il quale Andrea avrebbe scritto quella frase prima di togliersi la vita da Iesi anche tante notizie di cronaca vediamo l'apertura sul provvedimento dell'equestore in centro è stato chiuso un bar per sette giorni a causa di fatti risalenti al dicembre scorso quando la polizia era dovuta intervenire per una lite tra ubriachi e siamo appunto in un bar del centro storico che ha avuto una sospensione della licenza di sette giorni poi ancora tamponamento in superstrada fra quattro auto tre feriti uno è finito all'ospedale regionale di Torrette e ancora riviera oggi cambiamo sito e qui appunto si parla del mercato ittico di San Benedetto dove continuano i lavori di riqualificazione abbiamo parlato anche nel nostro telegiornale All News per quanto riguarda il servizio bar l'obiettivo di ripristinare l'attività in tempi brevi con la pubblicazione di un bando di gara europeo si apprende dal comune e ancora si parla di Ascoli Piceno Italia Nostra è necessario migliorare il decoro urbano e i collegamenti pubblici la sezione di Ascoli Piceno appunto di Italia Nostra si è rivolta all'amministrazione comunale alle associazioni e ai presidenti e direi di chiudere con il portale utvrs.it nella parte bassa tutta dedicata allo sport c'è il derby Vis Pesaro Fermana che sarà il prossimo sabato davvero c'è molta attesa per questo derbissimo afferma una città intera spinge la squadra si tenta uno scherzetto alla Vis Pesaro invece sul fronte pesarese si dimentica il gubbio occorre dimenticare il gubbio dalla Fermana non sappiamo cosa aspettarci quindi c'è voglia di riscatto Lascoli invece per salire in serie B abbiamo bisogno di punti contro la sorpresa del campionato la squadra bianconera sarà a Catanzaro sempre sabato con il mister che presenta la sfida dopo la sconfitta con il Sud Tirol ricordando appunto quello che è successo nell'ultimo turno e poi già ci si proietta alla prossima partita con questo articolo di Andrea Busiello l'appuntamento è per sabato alle 16 e 15 una squadra collaudata e quindi i numeri dicono che noi siamo una squadra che cresce alla distanza e direi che è tutto per questa puntata di fatti e commenti di giovedì 8 febbraio e ringrazio ancora l'ospite della seconda parte l'assessore Gabriele Cameruccio urbanistica e frazioni del comune di Senigallia è stato un piacere averla con noi grazie 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 a voi per averci seguito l'appuntamento con fatti e commenti è per domani alle 23 sul canale 13 di TVRS buonanotte grazie a tutti grazie a tutti